Musica Vaccinazioni a due mesi di somministrazione La dottoressa Morra traccia un bilancio Forte partecipazione da parte degli anziani Rassicurazioni su rischi, allergie Alta velocità la proposta del comitato pro ferrovia Serve stazione di interconnessione con vecchia tratta Basso cilento, circonvenzione di incapace Nei guai un medico Sala Consilina questa mattina La consegna dell'olio raccolto presso la villa comunale Il dono del centro Una Speranza Onlus alle parrocchie San Pietro Altanagro al centro Oasi di Bellezza Arriva a Laia contro l'invecchiamento cutaneo Buonasera e bentrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale Il centro vaccinale di Polla continua nella sua attività Che si registra anche alquanto intensa Vista la massiccia partecipazione alle operazioni Sono oltre 3.000 le persone di varia età Compresa o superiore a 80 anni Che si sono prenotati sulla piattaforma della regione Per eseguire le vaccinazioni con vaccino Pfizer Due i centri impegnati in questo lavoro Il primo presso l'ospedale Luigi Curto di Polla Che è anche centro hub per la provincia sud di Salerno E l'altro a Teggiano La dottoressa Angela Mora Responsabile del centro allestito presso il Curto Traccia un bilancio di questi mesi di attività Con specifico riferimento Per ciò che riguarda le vaccinazioni sugli over 80 Che si stanno effettuando in stretta sinergia Con il distretto sanitario La cui referente è la dottoressa Rosa D'Albano La dottoressa Morra assicura Chi al momento non è stato ancora contattato Stia tranquillo, provvederemo a breve Ma ascoltiamo la dottoressa Morra Abbiamo avuto una risposta veramente Quasi inaspettata Diciamo che noi effettivamente abbiamo iniziato La campagna vaccinale il 31 dicembre Naturalmente con gli operatori sanitari e sociosanitari Abbiamo vaccinato oltre 2000 persone di questa fascia E poi da una decina di giorni abbiamo iniziato con gli ultraottandenni C'è stata una grossa sensibilizzazione fra gli anziani Quindi la risposta è stata veramente massiva Si sono prenotati sulla piattaforma Per quanto riguarda il nostro territorio Oltre 5000 anziani Da noi naturalmente afferiranno gli anziani deambulanti E fino ad adesso controllando appunto il numero dei prenotati Siamo intorno ai 3000 prenotati Come geriatra ho visto questa fascia di anziani Veramente attaccata a questa speranza di vita Come tutti sappiamo La fascia che è stata più falcidiata È stata proprio quella degli ultraottantenni Quindi vedono in questo vaccino Una speranza di vita anche per loro Stiamo somministrando il Pfizer-BioNTech Anche perché questo ospedale è hub per lo stoccaggio proprio di questo vaccino Essendo dotato di un frigorifero Che mantiene le temperature molto basse Quindi a meno 80 L'altra Zeneca è arrivata nell'ASL Però molto probabilmente verrà utilizzata più che altro Per la vaccinazione a docenti Alle forze dell'ordine Un vaccino che ha una maggiore maneggevolezza Proprio per le caratteristiche di temperatura Non ha bisogno di una diluzione particolare E verrà molto probabilmente utilizzata essenzialmente dal territorio Quindi dai punti vaccinali territoriali Per chi ancora non è stato magari contattato Per la somministrazione dei vaccini Si sarà contattato man mano Perché le convocazioni vengono fatte Diciamo afferendo alla piattaforma Si inserisce il numero di pazienti E di soggetti che noi vogliamo vaccinare in una giornata Automaticamente secondo le prenotazioni Che hanno effettuato sulla piattaforma La piattaforma stessa ci fornisce i nominativi Noi adesso ci stiamo muovendo un po' come zone territoriali Nel senso che con un accordo che abbiamo trovato Un po' con l'altro punto vaccinale territoriale Che è il south di Leggiano Noi adesso ci stiamo occupando un po' più Dei paesi della zona nord Proprio per favorire i pazienti Gli ultraottantenni A non fare viaggi più lunghi Mentre loro si stanno occupando un po' dei paesi Dei soggetti oltreottantenni dei paesi della zona centro-sud La presentazione di un progetto Per l'alta velocità nel Vallo di Diano Ha spinto il Comitato Proferrovia Siciliano Lago Negro Ad intervenire con una proposta Per il Comitato è necessario prevedere Una interconnessione con la vecchia tratta Ipotizzandone quindi la riattivazione Ma vediamo A proposito della nuova ferrovia in progettazione Da RFI che vorrebbe la realizzazione ex novo di una tratta Che da battipaglia possa congiungersi con la ferrovia esistente a Praia Attraversando il Vallo di Diano Arriva la proposta del Comitato Proferrovia Siciliano Lago Negro Che invita alla riflessione e soprattutto all'impegno Per la realizzazione di una interconnessione con la vecchia tratta Che attraversa il territorio valdianese Il Comitato nella premessa ricorda come il progetto Per la nuova linea ferroviaria Che fa tanto discutere In particolare per la scelta di attraversare il Vallo di Diano Non è una decisione calata dall'alto Bensì frutto di lavori parlamentari Nelle diverse commissioni Ad opera di deputati afferenti A diversi schieramenti Quali i furgioelle della Lega Che aveva chiesto al Governo La realizzazione di una tratta ad alta velocità A sud di Salerno Sviluppando nuove tecnologie E assicurando prestazioni innovative Bossio del PD e Ficara del Movimento 5 Stelle Che avevano chiesto di identificare un nuovo itinerario Per il collegamento con l'alta velocità di Salerno e Reggio Calabria Il progetto quindi è frutto di attente valutazioni Anche se, fa notare il Comitato Tra le tante risoluzioni presentate In tema potenziamento dell'alta velocità Anche nel Salernitano Non esiste alcun documento Che faccia riferimento alla realizzazione Di una stazione di interconnessione Con la vecchia tratta Sicignano-Lago Negro Come avviene sulla linea Salerno-Napoli E come è prevista a Baronissi Con la linea Salerno-Mercato-San Severino Senza stazioni di interconnessione Con la linea tradizionale Dichiarano dal Comitato Si farebbe la fine della ciociaria In cui si vedono passare i treni a alta velocità Auspichiamo che i sindaci, le regioni e i parlamentari Facciano proprio la nostra proposta E che la sostengano in tutte le sedi opportune Allora chiediamo di ascoltare la nostra volontà Che è anche quella di tutta la società civile Come dimostrato pubblicamente dai comunicati Delle ultime ore Società che ha voglia di riscatto E che ora più che mai è unita Per raggiungere questo obiettivo Che contribuirebbe a risollevare Le sorti quasi scontate di abbandono del Vallo di Diano Un passaggio anche sulle polemiche Che stanno investendo il progetto E le richieste di revisione Che provengono dal Cilento Il Comitato condivide il pensiero Del sindaco di Capaccio Alfieri Che definisce stupida la competizione Tra i due territori Mentre è più intelligente pensare Di sostenere la realizzazione Di una nuova tratta dell'alta velocità Prevedendo nel contempo Il potenziamento di quella esistente Le polemiche sull'alta velocità E soprattutto le richieste del Cilento Che si oppongono alle necessità Del Vallo di Diano Continuano incessanti Mentre il sindaco di Capaccio Pestum Ipotizza un potenziamento Della tratta esistente nel Cilento Senza precludere la realizzazione Di una nuova tratta nel Vallo di Diano Si registra un intervento Alquanto ostativo Da parte dell'associazione Vivi Cilento Che sottolineando come la loro posizione Va da difesa dell'ambiente Rimarcano una necessità Di evitare la realizzazione Di opere che possano Perforare montagne Come avverrebbe A parere dell'associazione Mentre sarebbe più giusto Realizzare una tratta Dell'alta velocità Su un percorso già esistente Potenziandone e migliorandole La fruibilità E' più facile l'adeguamento Di quanto già esiste Scrivono dall'associazione Vivi Cilento Piuttosto che uno sforzo lungo Presumibile più di 16 anni Per realizzare qualcosa Che prevederà anche il mancato rispetto Delle caratteristiche Che rappresentano il territorio Ovvero sostenibilità E rispetto dell'ambiente Così concludono Emergono dettagli inquietanti Passiamo alla cronaca Dall'operazione Gold Business Portata avanti dai carabinieri Della compagnia di Eboli Rifiuti tossici Interrati Anche a pochi metri Dal fiume Calore Ma vediamo Non curanti dell'ambiente circostante Capaci di interrare E abbandonare Dei fiuti tossici Come è accaduto A luglio ed agosto Del 2019 In un fondo agricolo di serre A pochi metri Dal fiume Calore In una riserva naturale Regionale La Foce Sela E Tanagro Emergono dettagli inquietanti Dall'operazione Gold Business Avviata con una segnalazione Anonima Dai carabinieri Della compagnia di Eboli Agli ordini Del capitano Emanuele Tanzilli Con le indagini Coordinate Dalla DDA di Salerno E che ieri ha portato in carcere Sei persone Con 14 misure cautelari Emesse dal Tribunale di Salerno Associazione per delinquere Aggravata Finalizzata al traffico Lecito di rifiuti tossici Speciali e pericolosi Di categoria ecotossica Con la Costituzione Gestione Disvariate Discariche abusive Nella Piana del Sele A gestire L'organizzazione criminale Antonio Romagnolo 47enne di Serre Che si avvaleva Di Michele Acampora Come procacciatore Intermediario Di Vito Arietta Giulio Riuscinito E Rocco Capuano Come autisti E ancora Di Gaetano Romagnolo Il padre E Giuseppe Mainardi Come proprietari Di aziende agricole Terreni e mezzi Vari gli episodi Di sversamenti E smaltimento Uno di questi Località Tiri di fanteria Di proprietà Della regione Campania Dove in un'area Limitrofa La coltivazione Di cereali Era stata creata Una vera e propria Discarica Di rifiuti speciali Di varie tipologie Provenienza Oltre che di rifiuti Speciali urbani Indifferenziati Tombati O interrati Fino ad una profondità Di circa un metro e mezzo Ed ancora Tra il settembre E il novembre del 2019 Ci fu il sequestro Da parte dei carabinieri Delle stazioni Di Borgo Cariglia E Altavilla Silentina Di una superficie Di circa 700 metri quadri Interessata dal deposito Incontrollato Di rifiuti speciali Costituiti da Rifiuti ferrosi Plastici E frammisti A terreno E pietrisco Nonché di una superficie Di circa 1600 metri quadri Interessata Da un deposito Incontrollato Di rifiuti speciali Non pericolosi Come letame E liquame E 120 Taniche E sauste Contenenti In origine Prodotti acidi Corrosivi E pericolosi Per l'ambiente Impegnati Per le operazioni Di pulizia Di attrezzature Locali Della sala Mungitura E depositati Presso un piazzale Di un'azienda Agricola Zootecnica Di Serre Di cui Gaetano Romagnolo È legale Rappresentante Nonostante ciò Hanno spiegato Gli inquirenti Antonio Romagnolo Figlio di Gaetano E promotore Del sodalizio Non ha assolutamente Interrotto L'attività criminosa Ma si è addirittura Ingegnato Per individuare Nuovi siti Di discarica Unitamente Agli altri indagati Spingendosi A commentare Insieme al padre Risentiti Per i controlli Delle forze Dell'ordine Come i carabinieri Fossero al servizio Di uno stato Mafioso Un medico Di San Giovanni Appiro È indagato Per circonvenzione Di incapace La guardia Di finanza Gli ha sequestrato Beni Per un valore Complessivo Di oltre Due milioni Di euro È stata recuperata Così Dalla guardia Di finanza L'eredità Milionaria Sottratta Ad un'anziana Vediamo i dettagli Nel prossimo servizio Un medico Di San Giovanni Appiro È indagato Per circonvenzione Di incapace La guardia Di finanza Gli ha sequestrato Beni Per un valore Complessivo Di oltre Due milioni Di euro Le indagini Sono partite A seguito Della denuncia Sporta dai nipoti Di un'anziana Benestante Che dopo la sua morte Si sono visti Completamente esclusi Dal testamento Alla lettura Delle ultime Volontà Della donna I legittimi Eredi Hanno appreso Che il patrimonio Della zia Era stato interamente Donato Al professionista Del basso Cilento Alloro Del tutto Sconosciuto Il dottore Approfittando Del precario Stato psicofisico Della signora Aggravato Dall'età avanzata E dalla condizione Di solitudine In cui si trovava Da diversi anni Aveva ricevuto Nel tempo Cospicue somme Di denaro A suo dire Si tratta Di semplici Regalie E soprattutto L'aveva convinta A farsi nominare Unico erede La donna Non essendo ormai In grado Di amministrare Con lucidità Le proprie ricchezze Era stata peraltro Sul punto Di rilasciare Al professionista Anche la delega Ad operare Sui conti correnti Operazione Non andata a buon fine Solo grazie All'intervento Del notaio Incaricato Il quale Non si è lasciato Ingannare Dalle motivazioni Adotte dall'uomo Per giustificare Il suo intervento Nella gestione Delle finanze Della paziente Gli accertamenti Bancari Hanno comunque Portato alla luce Numerosi prelevamenti Di contanti Anche per decine Di migliaia di euro Di cui non è stato Possibile stabilire L'effettivo utilizzo Quando la signora Era ancora in vita Somme spropositate Considerato che la malattia La costringeva Praticamente in casa E' scattato il sequestro Dei beni dell'uomo Tra cui diversi appartamenti Sulla costa cilentana Ora deve difendersi Dall'accusa Di circonvenzione D'incapace Un reato punito Con la reclusione Da 2 a 6 anni E una multa Fino a 2.000 euro E' stata sbloccata La decontribuzione Più investimenti Al sud Così il presidente Della regione Vincenzo De Luca Commenta il via libera Allo sgravio Per il 2021 Aver acceso i riflettori Sulla mancata applicazione Della norma Sulla decontribuzione Al sud E aver sollecitato L'intervento del governo Afferma Ha prodotto Un immediato Importante risultato La commissione europea Ha dato il parere Favorevole E l'Inps Ha tempestivamente Adottato la circolare Applicativa Le aziende Le aziende del sud Dunque potranno godere Delle agevolazioni Con il taglio Della contribuzione Del 30% Per l'anno 2021 Ciò assicura Liquidità Dà ossigeno In questo periodo Di difficoltà E crea contestualmente Le condizioni Per una ripresa Con un taglio Strutturale Del costo Del lavoro Ora diviene Più vantaggioso Investire al sud Continueremo A porre l'attenzione Su questa importante Misura Perché pur subordinata Alle autorizzazioni Della commissione europea Venga applicata Anche negli anni futuri Fino al 2029 Come previsto Dalla legge di stabilità Così ha concluso Il governatore La frana Dello scorso 2 febbraio Ha diviso in due La costiera amalfitana Spezzando nel comune Di Amalfi La strada statale 163 Da oggi Possono partire I lavori Di messa in sicurezza Vediamo Sono due cantieri Che verranno attivati Sulla frana Che lo scorso 2 febbraio Ha diviso in due La costiera amalfitana Spezzando nel comune Di Amalfi La strada statale 163 Dopo la decisione Della procura di Salerno Di dissequestrare Le aree oggetto di frana Che erano state sigillate Per l'inchiesta Che doveva accertare Eventuali responsabilità Una volta terminato Il lavoro Del consulente Della procura Ieri è stato notificato Il dissequestro Al sindaco di Amalfi Daniele Milano Custode giudiziario Dell'area Da oggi Con le verifiche Ispettive Parte ufficialmente Il cantiere Per la messa in sicurezza Propedeutico Alla ricostruzione Della strada Il primo cantiere Spetta al comune Di Amalfi Il secondo Toccherà L'Anas Diversamente Da quanto previsto In un primo momento I due cantieri Saranno attivati In due punti diversi In dieci giorni Se le condizioni Meteorologiche Lo consentiranno Il comune di Amalfi Conta di completare L'intervento Di messa in sicurezza Ma contemporaneamente L'Anas Potrà allestire Il suo di cantiere Che partirà però Non appena Sarà ultimata La messa in sicurezza I tempi previsti Sono quelli annunciati Dal presidente Della regione campagna Vincenzo De Luca Tre mesi Per riaprire tutto E questa È la speranza Di tutti Residenti Ma anche albergatori E imprese Già in ginocchio Per la pandemia Voltiamo pagina Questa mattina Presso l'aula consigliare Del comune Di Sala Consilina Il sindaco Francesco Cavallone Insieme al vice sindaco Gelsomina Lombardi E alla consigliera Rosa Melillo Ha presenziato Alla cerimonia Di consegna Dell'olio Frutto del raccolto Delle olive Degli alberi Presenti Nella villa comunale Da tre anni L'amministrazione Cavallone Ha deciso Di concedere In comodato d'uso La gestione degli olive Al centro sociale Per consentire Ai tanti ospiti Di poter anche apprendere Oltre che essere Protagonisti Delle operazioni Legate alla raccolta Delle olive Un'azione di grande Solidarietà Non solo perché La gestione Degli alberi di olivo Contribuisce A regalare Agli ospiti Del centro Momenti di socialità E divertimento Oltre che farli Sentire utili Alla comunità Ma anche perché Il raccolto Viene donato Alle parrocchie Che conoscendo meglio Le difficoltà Di tante famiglie Che sono restie A chiedere aiuti Potranno così Consegnare l'olio A chi ne ha più bisogno Nel completo Anonimato Ascoltiamo le interviste Realizzate questa mattina In occasione Della consegna Dell'olio Ai parroci Di Sala Consilina Don Gabriele Petrocelli Don Luciano Laperuta Don Paolo Longo Da parte Della referente Del centro Una speranza Onlus È un'iniziativa Che è partita Tre anni fa Con una delibera In cui Si è deciso Di fare questo Percorso In comune Con il centro Michelina Carone L'associazione Una speranza Onlus In cui È stata data In gestione Tutta quella Che è l'operazione Che riguarda Le piante Di olivo Cioè La potatura Quella che è la manutenzione Ordinare Potremmo definire Di queste Di queste piante E poi la raccolta Questo percorso Vede oggi La fine Attraverso La consegna Di 40 litri D'olio Ai parroci Del nostro territorio Perché noi C'eravamo riservati Una piccola quantità Su quello che sarebbe Stato il raccolto Generale Che è stato Preso Dall'associazione Per poi Darlo alle parrocchie Che sicuramente Possono venire Maggiormente In contro A quelle che sono Le esigenze E i bisogni Sul nostro territorio Credo che i nostri parroci Don Gabriele Don Paolo Don Luciano E Don Domenico Sicuramente Hanno un maggiore Controllo Della situazione Probabilmente Anche le persone Bisognose Che non hanno Il coraggio Di dirlo pubblicamente Probabilmente Si avvicinano Più facilmente A quelli che sono I referenti Che sono i parroci E quindi Nelle loro condizioni Di bisogno Posso chiedere Questo bene alimentare Che sicuramente È di grandissima importanza Noi siamo molto Soddisfatti Ringrazio I parroci Ringrazio Il centro Michelina Garone Ringrazio La stamba Che è venuta Voglio dire A pubblicizzare A presenziare A questo evento Credo che sia Un segno Di solidarietà E di collaborazione Istituzionale Tra vari settori In un momento In un momento Di grandissima difficoltà È stato un grande momento Perché Momento di incontro Tra diverse istituzioni Tra diverse realtà E Riuniti intorno a che cosa? Intorno All'olio Che per il nostro territorio È un bene È una ricchezza È legato È radicata Alla nostra tradizione Però diciamo Ecco Sono le olive Per così dire Del comune Di tutti Di tutta sala Ed è bello Perché Permettendo Ai ragazzi Del centro Di fare questa raccolta E quindi In parte Di utilizzare O di usare In altro modo Quest'olio Significa Che dietro C'è C'è tutta sala C'è tutta la comunità Che Che partecipa A questo gesto Di carità L'amministrazione Poi insomma È stata capace Nell'organizzare Questo incontro E quindi Vedere L'amministrazione Come Come dire Come garante No Di queste opere Di attività Sociali E caritative E poi Insomma La partecipazione Delle parrocchie No Questo Questo Attingere No Mettere insieme Le risorse Che abbiamo Per Per farsi Insomma Che possa crescere Il bene E come dicevo Realmente Insomma Quest'olio Ecco Ci serve ad ungere Gli ingranaggi Della grande macchina Della carità Che nel nostro territorio Grazie a Dio È stata sempre Come dire Sempre presente Ora ci fermiamo Per un po' di consigli Per i vostri acquisti A tra poco Bentornati in studio Proseguiamo con il nostro Telegiornale Novità al centro estetico Oasi di bellezza Beauty e solarium Di Anna Marra A San Pietro Altanagro Da oggi È disponibile Un nuovo strumento Per combattere L'invecchiamento Della pelle Si chiama Allaia Vediamo di cosa Si tratta Il centro estetico Oasi di bellezza Beauty e solarium Di Anna Marra Con sede In mia scorso A San Pietro Altanagro Sempre più all'avanguardia Con importanti novità In tema di trattamenti estetici È appena arrivato Nelle sale dirette Dalla giovane Marra Un nuovo apparecchio In grado di contrastare Una serie di inestetismi Come le rughe L'invecchiamento cutaneo L'acne, le macchie Ma anche la cellulite E l'elassità cutanee Un vero gioiello Che si chiama Allaia 4 in 1 Perché ha un'azione Basata su quattro diverse metodiche Radiofrequenza Ozono Onde acustiche E soft laser Una sinergia efficace Per la tonificazione Il dimagrimento E per rispondere Ad ogni esigenza Contro l'invecchiamento cutaneo Di viso e corpo Un'immediata azione Lifting Che rinnova la pelle In maniera semplice e veloce Un macchinario Che al momento Si trova Solo presso il centro estetico Di Annamarra San Pietro Altanagro Dove sono tantissimi Gli altri servizi Importanti e unici Offerti per la cura Della propria bellezza In tema di macchie Ad esempio Ci sono i validissimi Trattamenti Con gli oli essenziali Mentre per il make up Di sicuro effetto Il biotatuaggio Con le ne per sopracciglia E per le ciglia Invece spazio Alla laminazione Restando concentrati Sui trattamenti viso Da non perdere La prova Con lo smart mirror Uno strumento Che utilizza una speciale fotocamera Per analizzare In pochi secondi Il viso In modo dettagliato Rendere possibile L'individuazione Degli inestetismi E le problematiche Della pelle Al fine di agire In modo mirato Soluzione perfetta Anche contro i peli superflui Con il depilaser TX2 Tecnologia laser Di ultima generazione Che offre i risultati Migliori di sempre Nei trattamenti Di epilazione Definitiva Per provare entrambi Anna Marra Ha organizzato Un open day Il prossimo 26 febbraio Due importanti trattamenti A cui la nuova macchina Allaia 4 in 1 Si aggiunge Per rendere Ogni donna Più bella E luminosa Tutte le informazioni Presso il centro estetico Oasi di bellezza In via scorso A San Pietro Al Tanagro Al via Nell'ambito Dell'ASL Salerno Il programma Di screening Gratuito Della mammella Per aderire E' necessaria La prenotazione E' possibile Effettuare l'esame In uno dei tanti centri Ma vediamo i dettagli Riprese le attività Di screening Mammografico Gratuito Nell'ambito Della campagna Ci prendiamo cura Di te Dell'ASL Salerno E' stato ripristinato Un servizio importante Per tutta la cittadinanza Con l'obiettivo Di incentivare L'adesione Agli screening Oncologici E sensibilizzare Alla cultura Della prevenzione In questo caso Di patologie al seno Preserva la tua salute In piena sicurezza Dicono Subito la mammografia Scegliendo quello Più vicino A casa Qui è il distretto 72 Sala Consilina Polla Presso l'ospedale Luigi Curto A cui si può telefonare Dal lunedì al venerdì Dalle ore 12 e 30 Alle ore 14 La prenotazione E' necessaria L'accesso Spiegano E' sia tramite Lettera d'invito Che libero Quindi senza impegnativa Del medico di medicina Generale Per le donne Nella fascia d'età Interessata Che non abbiano effettuato Una mammografia Da due anni Si tratta di un esame Radiologico Della mammella Rapido e indolore Praticabile Presso i distretti E gli ospedali Dell'Asl Salerno La quantità di raggi X Durante la mammografia E' molto bassa Ed è garantita La doppia lettura Della mammografia Da due radiologi In momenti diversi E all'oscuro Del referto altrui Ora ci spostiamo A Polla Dove nell'ambito Del progetto nazionale Costuriamo gentilezza Prende il via Welcome on board Un albero E la costituzione Per ogni nato Vediamo Un gesto gentile Ma anche un gesto Di speranze Di rispetto Verso la natura Un benvenuto ai nuovi nati Con un regalo importante E l'iniziativa Welcome on board Avviata dal comune di Polla Guidato dal sindaco Massimo Loviso Nell'ambito Del progetto nazionale Costruiamo gentilezza E già promotore Di varie iniziative In linea con La rete nazionale Degli assessori Alla gentilezza Con un gesto gentile Dunque L'amministrazione comunale Dà il benvenuto Nella cittadinanza Pollese Ai nuovi nati Facendo loro Un doppio dono Per alimentare La cultura Il senso civico E il rispetto Dell'ambiente Il comune di Polla Il comune di Polla Farà dono ai piccoli Alle piccole Sia del libro fondamentale Della costituzione italiana Sia con un ulteriore gesto Di speranza E di rispetto Verso la natura Riproponendo il progetto Un albero per ogni neonato Di un grazioso arbusto Dove verrà posta Una targhetta identificativa Contenente il nome Del bambino Gli alberi Posizionati In un'area strategica Del paese In modo da consentirne Un facile accesso Spiegano dal comune Stimoleranno i genitori A frequentare Quei luoghi Che simbolicamente Rappresenteranno La crescita del bambino Nel suo percorso di vita Polla è stato Uno dei primi comuni Ad entrare Nella rete nazionale Degli assessori Alla gentilezza Ha affermato L'assessore al ramo Federica Mignoli L'amministrazione comunale Ha inteso Sempre sensibilizzare Alle buone pratiche Partendo dai più piccoli E mettendo al centro Le comunità scolastiche Con varie iniziative Costruiamo gentilezza È un progetto Che intende Coinvolgere Tutta la cittadinanza Con la speranza Che la gentilezza Sia effetto moltiplicatore In ognuno di noi Per il benessere Delle nostre comunità Ed è tutto Per questo appuntamento Grazie per averci seguito Continuate a restare con noi A tutti Un'ottima serata Un'ottima serata Un'ottima serata